Salve a tutti ragazzi, sono LorKane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Dunque, cosa vediamo oggi? Queste mani e più che altro vedremo quelle non giocate, adesso vi spiego. Giocate comunque da Thin Cooler, ben Nick fra l'altro fratello, giocatore che giocava qualche anno fa, poi ha preso una lunga pausa per motivi personali e poi è tornato a cliccare, prima sul telefono, poi si è scaricato al The Manager 3 ed è tornato in pasta, no, con le mani in pasta, forse quello si può dire, non lo so. Comunque, mi ha mandato queste mani, giocate prima, un pacchetto di mani su Stars e poi questo un po' più recente sui Poker, no Limit 2, giusto per riprendere un po' di confidenza e mi ha chiesto un suo parere, insomma, quindi mi ha passato le mani ed eccoci qua ad analizzarle. Dunque, linea di gioco 18, 14, 6 e 8, circa 7, quindi un profilo molto basato sulle nostre carte, un po' sulla nostra posizione, quindi molto a livello 1, sostanzialmente una linea di gioco che fa soldi sugli errori degli avversari, e non mettendoci noi nelle situazioni di giocare mani un po', non dico complicate, ma un po' sviluppate, possiamo forse dirlo, ma adesso sarà tutto più chiaro. Fare in realtà 6,5 BB100 è ottimo, considerando le linee di gioco, c'è proprio un buon atteso. Come vediamo abbiamo fatto le prime metà un po' di adattamento, per così dire, poi abbiamo iniziato a vincere un po', la rossa è un calo costante, facciamo meno 50 di rossa più 60 e qualcosa di blu, quindi perdiamo tanto di rossa, concediamo moltissimo, un po' basso BPP, basso Pre-Pro-Pres, basso Tribet, basso in generale, quindi entriamo in pochi piatti, neghiamo poca equity, ne lasciamo realizzare tanti agli avversari, e finiamo un po', insomma, in quella linea di gioco che, sì, non dico che non faccia soldi, ma se proprio stiamo cercando di creare roll velocemente, questa linea di gioco andrebbe giocata, tipo 12 tavoli, ai poker si permette ancora di giocare 12, forse 9 il massimo, è un po' che non clicco cash ai poker, su tanti tavoli almeno, quindi non è la mia gioco che consiglierei, ma se è proprio un motivo semplice, diciamo, questo mese non ho tanto da fare, ho un'ora libera ogni sera, mi faccio queste sessioni un po' spinte, così a fine mese ho il roll per il 5, senza volerli investire nel mio portafoglio personale, perché 200 euro possono spostare capitali, probabilmente, può anche andare, però attenzione a non mettere nella nostra muscle memory, nella nostra linea di gioco, dei macro leak importanti, che poi al prossimo livello andiamo a pagare, magari non hanno dei miei 5, hanno dei miei 10, che sono ancora molto facili, però andremo presto a pagare contro una posizione un pochino più sensata, nel senso che di media perde meno, in realtà, a mio avviso, questi stake, so che sembrano numeri alti, ma è probabile che anche un 20 BB100 si possano fare, ma non dico per dire, oh che fico, faccio 20 BB100, hanno dei miei 2, e il fish medio ne perde 40 BB100, per cui se abbiamo 3 fish, 2 reg, siamo noi, è probabile che la media di soldi che si spostano al tavolo siano quelli, quindi se noi andiamo a prenderli, quello facciamo, di profitto, non possiamo farne troppi di più, non crediamo alle magie, noi facciamo 50 BB100, almeno uno stack ogni mezz'ora, è esagerato, esiste la varianza in questo gioco, esiste un atteso, una deviazione che dipende da uno streggio, non è vero, sono miraggi probabilmente, ma 6 BB100 è molto buono per una linea di gioco a bassa EV, proprio dovrebbe essere chiaro, adesso è inutile che apre una poker dopo, che mostri simulazioni di varianza o altre, è quello che ci aspettiamo. Cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo impostare un gioco che ci permette di migliorare, in generale la nostra comprensione e il nostro stile, tornare un po' in carreggiata con qualche linea di gioco un po' più avanzata, adesso io lo giocavo anni fa, per cui il modello un po' tag aggressive, il buon vecchio, no? Letty tag, e andava abbastanza bene per fare soldi dieci anni fa, probabilmente, adesso si ne fa ancora, ma è bene presto palleggiato, mano a mano che sale di livello, e dobbiamo anche capire chi gioca con un profilo simile, andare a esploitarlo, così da essere noi, avere una marcia in più, un livello di pensione in più. Andiamo a vedere un attimo da posizione prima, anzi, prendiamoci solo una mano per vedere due statistiche, ma su diecimila mani mi vorrei concentrare su altro, comunque, mani, se ne giocano poche, VPP è proprio basso basso, ora è difficile pensare a una statistica di riferimento, possiamo pensare che un giocatore normale, comunque ancora un po' nitti, secondo me, anche per lo 6 max, possa giocare un 24, 20, 10, come stats, vecchio stampo, no? Un po' nitti, quindi già su quello, comunque perdiamo un quarto del nostro VPP, abbiamo un gap di call che adesso andremo ad analizzare, una bassa 3-bet che si accompagnerà probabilmente a una linea di call un po' eccessiva, sui fold in generale non dico niente, le mani sono troppo poche, le 4-bet sono piccole, si overfolde le 4-bet, ma si sta contro un field un po' passivo, e sposta poco il V del nostro tavolo, del nostro gioco, vogliamo lavorare prima su spot frequenti, il nostro race first team è proprio basso basso basso, 29 abbondantemente sotto al minimo sindacale, proprio a creare il 34% di bottene è proprio basso basso basso, il blind vs blind è un po' approssimativo, cioè va bene che stiamo tributando un po' di più lo small, mi piace l'atteggiamento di una linea, spero, adesso lo vediamo da stats, ma già so che c'è un po' di call-call, comunque una linea che va o a tributare o a foldare, difendendo un po' poco, blind vs blind è un po' nel lato chiuso, overfoldiamo, si bet, mano bene, in linea di principio, in linea bilanciata, anche se checkfoldiamo un po' di più, perché ci manca un po' di protezione del range di check, e tendiamo a barellare un po' spesso i turn, nei tributtati probabilmente vogliamo alzare un po' le frequenze, soprattutto con una tributt così, chiamiamola piccola, quindi forte come range, è più naturale ci bettare un po' più spesso, e non ci bettare così spesso poi sui turn, aggressività media abbastanza bassa, la dongbet non l'analizziamo, perché su così poche mani 5, può essere soprattutto in un tavolo particolarmente fishy, e anche la bet vs smister ci interessa abbastanza poco, perché veramente non abbiamo mani di database, 24 su 65 non fa particolarmente stazio, non ci interessa anche, vediamo sul call call, infatti noi tributtiamo a tornare al 6-8, e colcolliamo 8-2, ora da big blind colcolliamo poco, 12 è tipo metà, no esagero, però dovremmo difendere molte mani in più, da small blind abbiamo un call call, che è metà della nostra tribet, principalmente tributtiamo, ma chiamiamo comunque tanto, win allo showdown altissimo, può essere anche se lo run, infatti nella parte finale delle mani, vinciamo un po' di più, win allo showdown altissimo, win allo showdown basso, aggressività media, bassa bassa bassa, 25% proprio, una volta su 4, è proprio essere decisamente poco aggressivi, capiamoci subito, vedendo se quello che abbiamo chiamato, ha fatto soldi, io già so, perché non è che le mani non le ho mai viste, comunque il nostro BPP, un po' mi preoccupa, perché passiamo un po' di soldi, nel da small blind, mettiamo anche il filtro su, affrontando un rilancio, anche se filtrare ulteriormente, non è che sia il massimo, quindi un, beh mettiamo, mettiamo facing one razor, così vediamo quando c'è stato un singolo rilancio, e facciamo comunque, abbiamo quindi anche un range di overlimp, vedo adesso, prima non me ne ero neanche accorto, va bene, comunque facciamo even, o quasi, dalle varie posizioni in generale, e chiamiamo da small blind, ma è solo 27 mani, non sono tantissime, e le andremo magari a vedere nello specifico, cerchiamo comunque, o di tribettare o di foldare, e il call exploitativo, deve essere proprio con un'ampia ampia lettura, togliamo un attimo il filtro, per capire quanto stiamo overlimpando, abbiamo 27 mani, in questo spot, e un centinaio dalle altre posizioni, andiamo a vedere un attimo su, ah no perché si sono già su un war laser, alla mattina ragazzi non è facile, non è facile la situazione, quindi metti pure tutti gli spot, dove noi andiamo a chiamare, quindi overlimpiamo abbastanza, e abbiamo anche sì, un po' di overlimp, anche delle altre posizioni, anche queste cerchiamo di togliercele, ho capito che sembra buono, e a livello di V non è così sbagliato, pensiamo a lì, abbiamo 4 e 6 suited, è vero che farebbe più soldi, è limpata che foldata isolata, però è una pessima abitudine da prendere, e la stiamo facendo per un V comunque basso, che ci richiede molta concentrazione, a partire da un piatto piccolo, solite cose che noi cerchiamo di giocare, anche e soprattutto per migliorare, e il nostro comunque range di call, non è che faccia soldi, cioè in generale vinciamo da big blind, per qualche oscuro motivo, meglio da big blind, ma dobbiamo pensare che stiamo foldando, tipo il 75% delle mani, quindi 75% alle volte, facciamo meno 100 o Bb100, in queste che chiamiamo, stiamo perdendo poco, in realtà è un buon segnale, il nostro range di call è qualcosa del genere, un po' dalle varie posizioni, e parliamo, 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 è un po' l'idea di andare a cercare i set, o comunque i punti un po' forti, e poi giocare le mani, basta verso Smith, basta aggressività, anche questo cerchiamo di tributare un po' di più, e chiamare exploitativa, perché abbiamo lettura sull'Original Razer, conosciamo i blinds, e sappiamo quello che vogliamo fare, ma sarà un evento raro, cioè non sarà la normalità, sarà il caso specifico che richiede lettura, la cosa che a me interessa, adesso andare a vedere, capirci un attimo anche su come allargare, no, queste linee di gioco, ah, prendiamo un attimo la mano, sì, abbiamo già visto un'idea delle statistiche, comunque per allargare un po' le nostre aperture, per esempio, che stiamo aprendo 10, immagino, cioè 10, senza immaginarti, scritto qua, Razer for Steel, 10 darle position, 10, 14, 20, 34, quindi range molto molto piccoli, non voglio partire da un range con Solver, stiamo parlando di un kill super variegato, guardiamoci questo tavolo, 60, 20, 50, 20, 90, 10, 80, 5, sono tutti giocatori molto occasionali, ma dobbiamo pensare di avere un range medio, che apriremo da quella posizione, in circostanze, tra virgolette, normali, voglio dire, non in spot particolarmente spostati, dove abbiamo un 100 di BPP, un 30 di ribetto, un giocatore corto che sta andando in tutte le mani, un range normale, e poi un adattamento esploitativo, aumentiamo il range, magari riduciamo la size, quando abbiamo veramente quei due rag nitti, un po' come noi, dai blinds, oppure riduciamo il range, magari aumentiamo la size, quando invece abbiamo giocatori, con linee di gioco, dal 100 di BPP, basso fold, aggressività e un aumento, profili di gioco, che sappiamo un po' come, dove perdono, per cui con che tipo di mani, vogliamo trovare un posizione, avanti il range, a fare soldi, per esempio in questo caso, sulla parte di bluff, e sulla basso fold, quando siamo in valore ai vari flop, quindi partiamo da una linea di base, la nostra linea di base è piccola, ora prendiamo l'esempio del bottone, anche se forse cut off è ancora più indicativo, apriamo 19 da cut off, prendiamo un esempio di range, vabbè, per una linea di 50, non importa, è sviluppato, non importa, fold i jack, cosa aprirebbe cut off, cut off aprirebbe un 30%, qui solversi in posta 2.3, però il 30% può essere circa, una size normale, infatti vediamo, non apriamo tutti gli ASX, non apriamo tutti i connector, siamo in frequenza, siamo ancora un po' chiusi, come linea di apertura, però se questo dovesse essere, circa il nostro range di partenza, dobbiamo pensare, che anche nel cut off, dove comunque abbiamo, tre giocatori, dopo di noi, e gli altri che hanno già parlato, abbiamo ancora diverse letture, che modificano il nostro range, per cui se noi partiamo da un range, di questo tipo, porto al 30% solo per il numero di combo, non è che sia questo range, che stiamo a prendere, per capirci sul numero, possiamo togliere qualche 9, che Solve non si fa mai aprire, K se li farebbe aprire, ma che questo dipende, un po' dai giocatori, le coppie anche per combo d'Italia, apriamo sempre, mettiamo caso, circa un 30%, questo fosse il nostro range di partenza, dovremmo avere situazioni, dove allarghiamo range, per esempio mettiamo caso, di avere una situazione, un po' più nitido del solito, quindi un giocatore, magari un 35%, che gioca da bottone, che possiamo praticamente ignorare, da quanto poco gioca, e da quanto passivo è, due reg di profilo un po' più nittish, o magari un fish the big blind, e reg nittish, di ball blind button, allora è normale, che potremmo voler introdurre, i nostri ASX come blockers, qualche connectors in più, anche da queste posizioni, i nostri 9, i nostri 7, creando un range maggiore, aumentando il nostro range, perché pensiamo di realizzare, più spesso noi, l'equity del nostro range, soprattutto per via delle basse tribet, anche per quanto foldano ovviamente, ma il fatto che tribetino poco, ci permette di over realizzare, i nostri equiti, vedendo più board, quindi aumentare il range, in questo caso è, da 400, andiamo a mettere tutte, se riesco a cliccare, perché è mattina, è difficile cliccare, da 400 passiamo a 500, quindi 25% in più del range, ci porta a fare, perché abbiamo lettura, per cui possiamo realizzare, più equiti, vedere più flop, perché tribetino meno, e fare più soldi, del normale, se invece noi pensiamo, ritogliendo, il range di prima, torniamo attorno al 30%, grosso modo, anche senza star troppo, a cliccare, una cosa simile, se invece, decidiamo di ridurre, il nostro range, perché lo small blind, è particolarmente aggro, big blind o folda mai, tira un sacco di bombazze, post flop, un altro dong bet, e riduciamo il range, possiamo andare a togliere, qualche asso a bassa playability, in quel caso, proprio l'idea, di questo tipo di mani, giocano meglio, contro un giocatore, che pre flop, difenetando post flop, aggroisce molto, togliere, scontare la parte bassa, magari scontare anche qualche 8, un po' al bottom range, che abbiamo, vogliendo scontare, anche per comodità, e ridurre un range, dal 30 al 25, e dal 30, magari al 35, aumentare e ridurre range, il nostro range di partenza è 20, proprio il range di media, che abbiamo aperto è 20, quindi un range troppo piccolo, che probabilmente va bene, dalla posizione prima, non è questo range, non voglio dire, apriamo questa roba, il numero di combo, dovremmo cercare quindi, di avere un range, più dinamico, maggiore di partenza, fare anche più esperienza in generale, e trovarci così con un range, sviluppato in maniera sensata, da portare poi al flop, e sviluppare con criterio, e giudizio direi, da bottone, noi apriamo 33, che è proprio sotto al minimo sindacale, prendo di nuovo, mamma solver, solo perché, solo perché, apri to fold a te, voi cosa state facendo, dalla nostra, da questa parte qua, fold a te, ecco, bottone qua, apre un 42%, e come sa, come range di partenza, ma il bottone è quello che ci permette, una maggior, una maggior componente exploitive, exploitative, beh, è difficile parlare la mattina, lo sapete, se noi partiamo da un 40%, quindi un numero di combo, insomma, torna al 550 combo, qui possiamo variare molto, portare questo range, a tutta, poi veramente, in questo caso, il nostro range, può arrivare a concludere, e qui ovviamente, siamo in full exploit, la mattina, possiamo andare a mettere, tutte queste combo, che sono proprio tante, portare il nostro range, dal 40 al 60, metà range in più, e in questo caso, chiaramente, non faremo la size 2,5, magari andiamo a 2,2, 2x, e bisogna trovare una situazione, con basso il tribet, bui che overfold, giocatori facili, contro cui giocarci, oppure di ridurre, un po' il nostro range, e andare, dal nostro 40, andare attorno al 30%, riducendo il nostro range, portandolo simile a quello di cutoff, per poter, magari difendere più spesso, con dotter i bet, perché oppo, vede tanti flop, perché post flop, abbiamo bisogno di maggior playability, perché oppo, è particolarmente fish, è particolarmente aggro, perché corto ed aggro, per motivi personali, ma mi raccomando, non usiamo la scusa, ma mi chiamano sempre, non so cosa fare, si chiamano sempre, vuol dire che perdono, come dei matti furiosi, e quindi giocare qualche mano in più, fa solo che più soldi, questo cerchiamo di mettere laggiù, a linea concettuale, e l'ultima cosa, ma è anche qui, e si parla comunque contro un field sensato, torniamo in fold, 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 e torniamo da qua, apri qua, fold a tu, va bene, e il nostro range di open, da, riusciamo a cliccare questa cosa, ok, va bene, vabbè, questa sarebbe la giocatura di, torna mia, torna mia under the gun, i nostri range di rilancio, da under the gun, comunque di base, anche se questo è un po' eccessivo, proprio per via del field, apri qualcosa del genere, io preferirei aprire i nostri assi suite, direi di sì, anche i Q jack, a su 10, non è che siano maniche stampano soldi, hanno limit 2, così come i Q9, tutti i k suite, lasciare stare, metterai il 100% di coppie basse, però almeno da un 10%, almeno spostarsi verso un 15% di apertura standard, mi va bene, quindi se siamo under the gun, aprire qualcosa, e qui siamo proprio nella compagna, la cosa più initti del mondo, c'è un range così, è talmente piccolo, insomma siamo al 15%, ma anche un range di questo tipo, l'ho preso circa così, ma in realtà, su 10, ass jack, v10, 19, non è che siano maniche, non fanno soldi, ma non voglio spostarmi, verso il 20%, che magari è troppo, per questi stake, probabilmente, K9, Q9, mi sembrano eccessivi, da giocare, questi stake, andare verso il 20%, che non è quello che vorrei fare, al no limit 2, ma togliamo pure, qualche combo off, magari basta, togliamo pure, qualche suited basso, qualche mano così, magari anche ASOS 7, ASOS 6, che giocano una bassa playability, e non dico il 100%, ma normalmente sì, però è chiaro che, ci saranno situazioni, giocatori corti, giocatori agri, giocatori che mandano le vasche, dove alcune volte, queste mani le possiamo foldare, ma cerchiamo di partire, da un range maggiore, non il 10%, magari un 15%, qui abbiamo meno spot, esploitativi, cioè il nostro range, non cambierà tantissimo, da questo range, difficilmente ci sposteremo, al 25%, o scenderemo al 7%, con grandi spostamenti da bottone, invece spostiamo veramente tanto, tanto, andiamo a vedere qualche mano non giocata, perché concettualmente dovrebbe, dare una buona idea, di quello che sto intendendo, noi apriamo il 30%, il nostro obiettivo sarebbe andare verso il 40%, anche qualcosa di più, di media, 40, 40 qualcosa, portandoci in spot, apriamo il 60%, e il spot abbiamo il 30%, quindi esploitativamente, sapendo un po' quello che facciamo, andiamo a vedere il nostro VPP falso, quindi i mani non giocate, in una situazione di piatto, unopened, se riusciamo, unopened pot, mani foldate, cosa andiamo ad analizzare, le mani che non abbiamo giocato, ebbene sì, le mani che non abbiamo giocato da bottone, sono queste, le divido, qui sono già ordinate per cards, magari qualcuno misclick, dubito che io volessi affondare a su 9, in questa dinamica, però per analizzare un po' i nostri oppi, se aumentano o riducono il range, tavolo particolarmente fishy, bassa tribet di un giocatore 30-10, share stack, giocatore un po' più agro, che però tribet ha molto poco, questa è una situazione dove il nostro range, aumenta leggermente per lo small blind, e io direi che resta invariato per il big blind, e potremmo volerlo aumentare, perché è un fiscio abbastanza importante, il giocatore da big blind, ma non è che i nostri range, si spostino particolarmente, a su 9, chiaramente uno standard open, quindi apriremo il nostro range normale, e non abbiamo troppi motivi, per cambiarlo, io direi che questa è una situazione da normale range, e se vogliamo ridurre leggermente il range, aprire per 3, o comunque aprire il nostro range normale per 3, mi va bene, proprio in virtù del fatto che i nostri avversari, sono particolarmente fish, questi fold, magari qualcuno mi sclicca, perché mi sembra strano che io ho fold di S9, ma è per capire l'idea, qui per esempio, dovessero imparare la key, vuol dire che il nostro range di iso, aumenterà leggermente, visto che ho poveramente chiama tutto, vedo poi un'altra river bet, per cui magari potremmo volere, togliere qualche mano, tipo noi normalmente fold a 1, a su 2 off, non è un 100% open secondo GTO, ma normalmente contro 2 giocatori, così lo staremo isolando, contro un giocatore di questo profilo, magari più che quelle, preferiamo rilanciare, mani 10-9, 10 jack, Q9, perché giocano meglio, contro un giocatore di profilo, fold poco, e aggredisco molto, però questa è una situazione, dove il nostro range di rilancio, aumenta, small blind non tribetta mai, su 300 mani ha tribetato 0, comunque a 4 di media, big blind fold all'80-65, 3 di tribet, profilo di third fold, questo è uno spot, dove potremmo aprire, non dico ATC, perché non siamo quel tipo, gli giocatori sono sfrontati, anche se dovremmo essere la volta, ma qui una situazione di questo tipo, prevede un'apertura, come minimo di any suited, giusto per rendere facile il nostro range, è vero che qualche mano di questa, probabilmente è un po' esagerata, per esempio le mani di profilo 10-2, 10-5 suited, sono talmente a basse V, che non è detto che si debbano aprire, ma qui fa soldi direttamente nel preflop, un range che potremmo aprire qua, è qualcosa di questo tipo, 65% del nostro range, size rimpicciolita, 2.2, 2x, proprio per stampare i massimi, se invece siamo sui limp di lucky, dobbiamo pensare, che noi normalmente apriamo il range normale, non pensiamo al nostro range expectativo, partiamo dal nostro 40%, quello che è circa, di apertura, possiamo scontare qualcosa, anche in base alla playability, e in base al range del nostro hop, quindi andiamo a toglierci un po' di assi deboli, che giocano male, magari togliamo qualche combo di questo tipo, teniamo qualcosa del genere, e per chiaro, onestamente, faccio più volentieri a metterla, perché sono 10 combo, 8 combo su 500 mani, preferisco averlo, è piuttosto, però cambia niente, però questo tipo di range, magari togliendo anche un paio di blockers bassi, tenendo più un range, a più alta playability, che ita meglio i board medi, fa abbastanza soldi, abbiamo ridotto dal 40 al 33, d'altronde siamo in isola, diciamo leggermente, giocheremo i pick, contro un giocatore fish, e il 7% assieme, verremo tribetati, quindi non verremo mai tribetati, stamperemo un sacco di equity, di realizzazione, negandole ai nostri hop, vediamo qualche mano fuori dagli assi, che magari sono dei misclick, invece vedo tanti fall k9, che è proprio strano, solo per trovare i concetti di apertura, in questo caso, cosa abbiamo, cioè reggis, reggis, che comunque tribetta 7, era small blind, per cui è come dire, non tribetta, cioè questo giocatore non gioca, in questa dinamica, big blind ha una tribet bassetta, blind vs blind 0, 0, 10, gioca al 100% delle mani, è un aggro donk, c'è un profilo alta donk, alta bet, alta bet vs smith, alta ribarre, i soliti giocatori così, qui ridurre leggermente, mi va bene, nel senso togliere le mani, tipo k2, magari aso 2, magari jack2 suited, anche se non è un open, ma magari in esportativo lo è, ridurre un po' quel tipo di mani, mi va bene anche tenere due size, due per, per chiamare la tribet, contro il giocatore così, 3 per, con le mani un po' più forti, per andare a pompare il piatto, forbettare un po' più spesso, perché è un giocatore che ci permette, di sbilanciare le size, senza bisogno di preoccuparci, comunque questo è sempre open, tra l'altro, se noi apriamo qua, decidiamo di fare anche una size un po' più piccola, possiamo anche, forse la difesa contro i tribet, visto il profilo è eccessiva, perché comunque 10 su 90 non sono tante, però un giocatore che ha 80 di BPP, 0 di fold, se chiama il 100% delle mani, tribetta il top 10, è chiaro che possiamo foldare su tribet, e giocare super felici post flop, quindi possiamo anche aprire per 3, tanto, verremo tribettati solo il 7% delle volte, quindi, meno 3 BB, per 0,00, scusate, meno 3 BB, per 0,07, è il nostro EV negativo, cioè, quello che fa il nostro opo di fold equity, cioè, non fa niente di fold equity, perché non fa niente, quindi non ci interessa niente, contro una tribetta, 15, 17%, il giocatore che tribetta altrettanto, chiaramente, il EV negativo, di fare 3 bui, è tipo il 35%, tra una tribetta e l'altra, e di dover foldare la mano, quindi apriamo serenamente, ricordiamoci l'idea, è più la tribet del fold, a decidere se il nostro rendimento riduce, anche il fold chiaramente ci interessa, però, se tribettono il 35% assieme, è uno sconto di equity pazzesca, in questo caso, la tribetta attorno al 7% di qua, al 10% di qua, non tribettono quasi mai, quindi, l'85% delle volte, noi, o vediamo il flop, o guadagniamo fold equity, e facciamo soldi, altra situazione dove, maggior ragione, apriamo super felici, my tribet, my tribet, mani di profilo, magari apriamo per 3, se vogliamo rendersi il gioco più facile, apriamo pure un range leggermente più piccolo, ma queste sono mani, che stampano i milioni, soprattutto contro un giocatore così, vogliamo ridurre leggermente size, perché small blind è corte, chiama spesso, anche big blind non è 100x, qui va bene, ma non foldiamo, ok, in mani di questo tipo, vediamo un paio di mani da cutoff, ma credo che debba essere chiara, anche qua vedo 100% fold, immagino, con as 9, anche as 8, non è detto che siano sempre open, anzi, non è uno spot dove vogliamo avere tutte queste mani così, e qui, qui probabilmente il fold mi va anche bene, questo giocatore non folda mai pre, non folda mai post, questo giocatore non folda mai pre, non folda mai post, questo giocatore anche, sono un po' aggro, questo è uno spot dove, sì, veniamo un po' palleggiati, la mano probabilmente non ha abbastanza equity, non le apriremo normalmente, non abbiamo un vero motivo per aprirle qua, quindi va bene, ovviamente non è che dobbiamo aprire il 100%, vediamo se troviamo uno spot dove possiamo realizzare un po' di più, anche questo è proprio un tavolo full fish, possiamo anche toglierci il nostro asfoto da qua, quindi mi va bene, ricordiamoci però che apriamo poco, dobbiamo trovare motivo per aprirle più spesso, e poi giocare al flop con margine, io dubito che i europei si devono avere margine su questo feed, e comunque se ci manca del margine, lo andiamo a ricostruire, lo andiamo a recuperare un po' di margine, vediamoci comunque qualche mano, questa mano vediamo dal punto di vista di un altro giocatore che ne ha passate le mani, ma noi abbiamo 4-4, e siamo da B-Blind, vediamo cosa succede, c'è un open di un redmitti, chiama uno, va benissimo chiamata qua, fa semplicemente troppi soldi, qui stiamo doncando sicuramente, bravo, io ho bene anche la size, ho un po' risa risa, poi facciamo andare la vasca, va bene tutto, va bene, va bene, culerino, niente da dire, tutto normale, non è una mano che ci interessa, cioè è ben giocata, non è che io non so giocare all'improvviso, open 3-bet, 4-bet lunga, qui va bene, se hai fatto la 4-bet lunga in lettura, perché ha un giocatore 50-10-3, quindi qui la full equity non c'è, è inutile andare a size normali, a lunga, fai 30, fai 35, crea i piatti giusti per bloccare, tanto se fai 30, il pot sarà 65 al flop, e avrà leggerissimo overbet, 35 è meglio, perché crea il piatto giusto, ma non cambia assolutamente niente, quindi tutto bene, non è il miglior board contro un giocatore che ti rimetta il 3, perché ci gira jack jack, cucù, ma ci gira anche un sacco di mani che battiamo, non abbiamo il capo di picche, quindi fiori, quindi tutto gg, perfetta anche la scelta, va bene, ovviamente ci gira il assetto, ok, ci sta, perché un board che hit ha vagamente il suo range, ma non è che possiamo andare a foldare in quello spot, vediamo qualche mano, cosa succede qua, l'imp, l'imp, iso, call, raise, folda, in questa dinamica, open 50-8-3, profilo passivo, hitter fold, quindi lo spassi, hitter fold, molto passivo, limp to raise, cosa vuoi che ti giri quanto a po', tu le metti al 50% come poto, in sostanza, sconta anche la rake, perché qua stai per pagare il massimo della rake, l'altro giocatore lo puoi praticamente ignorare, perché a volte chiamerà dietro, non credo chiamerà mai davanti, all'impatto è chiamato, non dovrebbe avere le mani forti, dead money, ma l'altro giocatore ti sta mandando un limp raise, non crede lo faccia con 8-8, magari ogni tanto si, ci gira, mal che vada, ci gira KQ e quasi tutte le overpair giocate così, stiamo per impazzire, un altro profilo di giocatore, qua lo chiamo sempre, un altro stack, lo chiamo sempre, se anche fosse il stesso profilo, con 40 bui, non mi faccio mai un problema, con questo profilo, con 100 per di stack effettivo fold, fold perché non vale proprio l'investimento, poi vabbè, sì, ma il QQ ci può stare, ma non è necessario, non è un velox, dove abbiamo 20 bui, uno spinning go, vabbè, qui non ci interessa come giochiamo contro un mega relance, andremo linea, va bene, senz'altro, vabbè, forti i nostri avversari, ma niente da dire, questi sono spot che non ci interessano per niente, QQ, apriamo per 4, quindi scegli una size esploitativa, va bene, esci pure dal tuo gioco standard, quando hai giocatori che sono 60, 60, 80, che devi farci, per loro non sono soldi, quindi fai, vai pure tranquillo, betti, race lungo, però di un giocatore senza info, con un 9 sul board, non credo andrei a fondare NL2, anche perché mi giocherebbe uguale un 9X, sostanzialmente un po' di coppie, non è che ha sempre il 3, anche se un profilo più passivo, e se ho nota, mi può anche portare a fondare, ma non mandi la vasca, in realtà è la te che esoteramente dry, che potresti anche mandare la vasca adesso, nel senso che non è che, è vero che la mano non è che sia particolarmente vulnerabile, però non è che all'improvviso un 9 te lo folda, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, non è che ti è fondata la roba qui, lì se al 3 non cambia niente, tanto non è che poi riesce un altro 3, va bene, abbiamo maggior ragione, difendiamo, ma il 3 ce l'ha, e adesso ce l'ha ancora meno volte, va bene, difendiamo, aveva il 9, e fa poker, va bene, ci sta legittimo, non ci interessa un granché, ma va bene, non voglio foldare 100% superate, attenzione su quel 3, che comunque è una carta che migliora, cioè il nostro dopo può avere, tu scegli per un call, ora, è vero che non siamo in top value, contro un giocatore 60-10-10, quindi non è che sia orribile, l'idea di chiamare queste mani, contro questi giocatori, preferirei normalmente a forbettare, perché fa semplicemente un sacco di soldi, anche contro un giocatore un po' nitti, ma il call, va bene, insomma un po' il limite, ma va bene, lo chiamiamo, poi flopiamo i massimi, io direi, preferisco risare prima, e se noi risiamo a 25, o poi manda la vasca, siamo in uno spot comunque, 100 per di stack effettivo, 4-bet, 2-call contro i giocatori così, non mi fa impazzire, se il 2-call è stato per quello, posso anche comprenderlo, e normalmente cerca di forbettare queste mani, siamo anche suited, e non è che cambi tantissimo, essere suited o no, è tipo il 2,5% in più di fare colore, in sostanza, rispetto alla cappa normale, ma la forza di a cappa, è un po' riuscire anche a metterle preflop, mandarla a vasca diretto, anche fa soldi, ma non è quello che vogliamo fare, tanto dopo comunque chiamerà lo stesso range, si mette un po' in una situazione pubblicata, poi chiamolo nazi, mandiamo la vasca, va bene, Oppo qua 10-10, erano nella parte di flip, che però Oppo vince con stile, insomma vinto un flip, non ci interessa, ma l'idea di non forbettare di a cappa, estremamente esploitativa, insomma si può anche fare come no, e alzerei size, tu qua esci contro un'apertura per 3, normalmente andremo attorno a 6x4, come size normale, anche se questa è un'apertura un po' grande, il nostro Oppo non apre tanto, è un 30-15-2, bassi fold preflop, bassi fold darkflop, quindi dalla mia size normale, che sarebbe 12, semmai l'aumento leggermente, andando a 15, forse è eccessiva per lo stake, però vorrei aumentarla e non ridurla, in questo caso la size, Oppo chiama, la texture è un po' un disastro, ma non ti consiglio di giocarla slow, questa mano, anche se abbiamo assosso con l'asso di quadri, quindi sarebbe uno spot interessante, tra l'altro vedo anche una documenta abbastanza alta, il nostro Oppo, mettiamo 20, in realtà qua non mi dispiace affatto l'idea di ceccare, questo è texture, la mano è sostanzialmente invulnerabile, nel senso che abbiamo assosso con l'asso di quadri, non è una mano che soffre di così tanti equity, di pernita di equity sui tarna, ma non mi metterei a giocare linee di full check, contro giocatori di profilo abc, è un 30-15-2, quindi voglio beta sereno, quando risa qua va bene, è talmente draw via, dei jack, dei kq, forse anche dei q9 suited, vedo comunque la che si invita un po' alto, è un basso fold, e comunque non folderò mai, insomma, asso qua, alziamo l'asso di quadri, non è che mi renda felicissimo l'asso di quadri, comunque ok, ho un po' a kq, gg's, alzerei un po' la size preflop, tanto dopo giocare carte, lui guarda le carte, non è che si adatta tanto a quello che sta accadendo, ma insomma, sono piccole, insomma tutto bene, quello che dicevo, non è tanto le mani in sé, anche qui mi va bene, siamo multi way, scegliamo una size bigish, quindi verso i tre quarti più di po' di piatto, in una situazione fishy, dove intiamo su un po' il coordinato, è chiaro che giocheremo fast questa mano, e vabbè, c'è l'indiretto, siamo super felici che la cosa avvenga, pa pa pa, 7-4, no lol, ma ci sta, sono le mani perse, se non fossero così non saremmo felici, questa è quella contro lo Spigui, va bene che ci fa colore a river, race goal senz'altro, race bad bet, non è che ci sia tanto redire immagino, ma come diceva Iro anche via messaggio, questa è una mano un po' strana, abbiamo deciso di giocare in maniera un po' così, comunque più che le mani giocate, che comunque fanno soldi, sono un regione intima sensato, size sensata, seleziona delle mani un po' in intima sensata, sono le mani che non giochiamo, è questo fold al 70%, è questa cibet bassa, nei tribettati tribettiamo poco, cibettiamo poco, l'aggressività media abbastanza bassa, è proprio un profilo di gioco, che si gioca le carte, finché reggono facciamo soldi, quando iniziano a non reggere perdiamo soldi, ma perché le V non è molto alto, quindi la varianza la soffriamo di più, qua apriamo al 3, decidiamo per una 4 bet, OP contro comunque un giocatore che tribetta abbastanza, non folda un granché, può andare senz'altro, chiama Oppo, poi su questo board non ho ben capito cosa vogliamo fare, facciamo una 6 grande, quindi usciamo con proprio big big size, io credo che tra questa size l'ho indiretto, facciamo i soldi l'ho indiretto, se mai, piuttosto è un check abbastanza sereno, fra l'altro su questo board ottimo, giocatore pure molto passivo, se vogliamo bettare, bettiamo i nostri 15 che va più che bene, comunque che è un pochiamo, TAN e blank, check to fold, è un po' strano, con questa mano ci siamo proprio messi nella condizione di essere palleggiati, ora su un board del genere, 2 unblank chiaramente, già che 10 citano abbastanza le sue, un po' meno le nostre, possiamo fulcibettare lo stesso, però allora usciamo con size un po' più piccola, e check to push non mi piace, perché Oppo è ultra neat, super conservativo, quindi il suo range di bett vs smith, sarà estremamente forte, e mai debole, però noi abbiamo 2 over, abbiamo l'incastro di scala, abbiamo una mano veramente troppo forte, per trovarci in questa dinamica, al tanzi siamo sostanzialmente messi in trappola, ora non voglio dire che dobbiamo giocare solo la mano, per il suo obiettivo, perché possiamo anche cercare di giocare in maniera un po' sensata, risolta, anche se qui più che un reg, è una certa di smart fish, questo giocatore più che un reg, è una via di mezzo, un giocatore vagamente sensato, rispetto ad altri fish, e la bett mi può convincere, ma non la 6 mezzo potta, non tri-bettato, il check sul fatto, sulla passività, perché comunque il giocatore è molto passivo, vuol dire che non riserà mai, non ci trasformerà in blef, anche la bett fa semplicemente soldi, perché la mano ha una tonnellata di equity, se poi vogliamo check foldare, mi può anche andare mano su questo piatto, un po' eccessivo check foldare su questo piatto, anche se il suo range di bett adesso è estremamente forte, non credo che vinceremo mai, ma tenta a non metterti nella condizione, di abbandonare tantissime equity, decidi un po' se sei in blef, o se sei in valore, magari polarizza un po' di più i range, quindi metti blef o metti value, così se vieni resato, sai se foldare o se difendere, mettere questo range medio, bettare forte, per poi c'è foldare lo turn, è un po' autonegarsi l'equity, e trovarsi in condizioni un po' di disagio, queste le ho anche già viste tutte, in realtà non è che ci sia molto altro da dire, sulle mani che abbiamo giocato qua, cioè insomma le mani giocate sono poche, lo vediamo anche semplicemente guardando qua, sono tutte mani di valore, mani forti, assi, assi, coppie, carte alte, doppie, set, top air, super draw, tutte mani piuttosto forti, quindi è normale che si tendano a giocare con maggiore aggressività, stiamo giocando contro uno stake un po' fischioso, quindi giocavo principalmente la mano, senza curarci troppo del resto dei range, ma dobbiamo allargare un po' i nostri range, migliorare la lettura sugli avversari, e costruire anche un range che poi al flop vada a giocare in maniera un po' più dinamica, abbiamo più mani, possiamo fondare qualcuno di più, possiamo bleffare poi più volte al più, non così spesso visto il field, ma a mio avviso aumentare almeno di 5-6 punti il nostro WPAP, ridurre il gap di cola, aumentare le proprie presi, sistemare un po' la tribetta, wedge shutdown più alto, win va bene più basso, l'aggressività leggermente maggiore, la protezione dei range di check, e giocare le mani con criterio, ma va bene anche su una texture così coordinata, adesso lasciamo stare qua da una donna, che insomma la mano, ah beh, qui c'è una mega overbetta, vabbè non importa che siamo in un tribetato, proviamo a pensare che sia una mano normale, in un board di questo tipo, ultra dinamico, normalmente mi va bene anche avere un range di full check, contro regular, mi va bene giocarla in maniera sensata, magari conservando equity, cercando turn, cercando flop anche dei 9, che abbiano una set car, ma un conto è bettare, adesso qua, giusto per fare l'esempio, non è che sia molto calzante, una mano come 8-6, anche se, sì, una mano come 8-6, può aver senso, una linea di bett, perché almeno fa il suo obiettivo, che è quello di, probabilmente la mano migliore, conservo la mia equity, cercata a perdere tutte le mie equity, sono sull'overcard, e magari cercare una mano, come la sua 8 picche, che soffre di meno equity, perdita di equity sul tan, c'è l'overcard, c'è l'8, sono le picche, come idea, e mi va bene invece magari bettare la mano, tipo check 10, che quindi invece è top pair, ma ha anche una tonnellata di equity, anche per motivi di implies, di ribarge, eccetera, e mi va bene anche costruire range di questo tipo, quando siamo contro giocatori, particolarmente sbilanciati, cerchiamo di scegliere delle linee, più mano, board, e obiettivo della mano, ma senza pensare all'intero range, senza pensare che stiamo scoprendo delle ricerche, che non abbiamo, che quando cerchiamo qua stiamo foldando sempre, siamo contro station, probabilmente è quello che vogliamo fare, ma cerchiamo di trovare una scusa, per entrare in più piatti, piuttosto che la scusa proprio di mindset, ma chiamano tutto, non posso aprire di più, è l'esatto contrario, si chiamano tutto, posso fare più soldi più spesso, dovrebbe venire da sé, abbiamo margine post flop, faremo soldi, basta poi non andare a impazzire, scaricando stack, overbluffando di spot, anche perché l'esperienza di gioco, ci serve per il level up, non credo che noi vogliamo passare la vita qua, anche perché mi dicevi che hai giocato altre, boh, 20-30 mila mani, hanno limitato di stars, e poi si è passato di qua, perché c'è la rakeback, si capisco, ma non puoi scaldare una sedia per due mesi, solo perché giocavi tempo fa, e sei spostato all'analyme 2, cioè scaldiamo la sedia pure una settimana, studiamo un po' di materiale, dopo ti passo comunque un po' di video, proprio sulla, anche sulla creazione dei range post facto, per cui, prima sono state giocate allo stesso livello, da giocatori student, con l'esperienza analoga, simile, insomma la tua, vedi cosa hanno fatto soldi loro, con i range che hanno giocato loro, e cerchi di aumentare un po' la consapevolezza, e la tua fiducia sul fatto che puoi, e dovresti pensare di fare più soldi, giocando più umani, contro giocatori più scarsi di te, se fossero i tuoi avversari che è forti di te, chiaramente ti palleggiano tutte le volte che ti sbilanci, ma non credo che sia questo il caso, detto questo ragazzi, io vi saluto, per i video di oggi è tutto, un saluto alla prossima, da Lord Kane, bye bye!